Un dato nazionale sulla presenza di pesticidi nelle acque. In una classifica stilata l'Abruzzo si trova nelle posizioni più alte. La cosa che poi è da specificare è che 5 regioni italiane non mandano proprio i dati. Sì, è una classifica in cui noi siamo in una posizione cattiva perché abbiamo troppi pesticidi nelle acque sotterranee. In particolare nelle falde acquifere abruzzesi ci sono fitofarmaci e pesticidi. Quindi sostanze anche pericolose. Lo certifica l'ISPRA nazionale, quindi il governo. E addirittura ci sono però 5 regioni del sud, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Molise che non mandano proprio i dati al governo. E questo la dice lunga sullo stato del monitoraggio in Italia. Però in Abruzzo alcune analisi vengono fatte, peraltro parziali perché l'Art Abruzzo non riesce a cercare centinaia di pesticidi che sono in commercio. Quindi il dato che abbiamo, che è comunque molto preoccupante, è comunque molto parziale. Ed è a nostro avviso intollerabile che sostanze che possono causare problemi all'ambiente e alla salute non vengono neanche cercate e monitorate. Fortunatamente in Abruzzo noi prendiamo acque da aree montane dove fortunatamente questi pesticidi non vengono utilizzati. Certo è che se continuiamo a usare pesticidi in queste quantità assolutamente insostenibili potremmo anche avere nel futuro problemi anche di approvvigionamento delle acque potabili magari in alcune situazioni dove per esempio viene potabilizzata l'acqua dai fiumi. Grazie. Grazie.